Grandi avventure insieme! Va dritto al porto e fa molta attenzione. Vogliamo fare una sorpresa a Sir Topham Hutt quando torna sull'Isle. Non preoccuparti, farò molta attenzione. I coriandoli, no! Qual è il problema, Diesel? Credevo che tutti adorassero i coriandoli. Tutti quanti adorano i coriandoli, ma non nelle griglie di ventilazione. Thomas, ti avevo detto di fare attenzione. Ma ho fatto attenzione. Devi fare ancora più attenzione. Devi fare attenzionissimo. Ne ho perso qualcuno. Ora ricorda! Ehi! Dove è andato a finire il vagone dei coriandoli? Eccolo! Andiamo! Fatti attenzione o i coriandoli usciranno di nuovo! Aspetta! Sandy ha ragione! Dobbiamo fare attenzione! Io sto facendo attenzione! Oh, no! Come hanno fatto a non uscire? D'accordo! Adesso la situazione è ridicola. Da questa parte! Non sembra che stiate facendo attenzionissima! Oh, no! Salve! Bentornato, Sir Topamat! E sorpresa! Ci penso io! Lasciate fare a me! Sono molto impegnato! Devo scappare! Ciao, ciao! Oh, no! Cos'è successo ai coriandoli? Non capisco! Prima è bastato che io... Non dirlo più! Tutti quanti adorano i coriandoli! Coriandoli!